Corrado Armocida, pittore e scultore di Gioiosa Ionica, è il titolo di una mostra che sarà presentata a Palazza Meduri sabato prossimo. Una mostra che ripercorre in grandi linee il percorso pittorico dell'artista di Gioiosa Ionica e vengono ad essere evidenziate in primis le più significative affermazioni di questi ultimi tempi. Le opere del maestro Armocida, infatti, sono state presentate e con grande successo nelle più importanti capitali d'Europa. Ed in Italia, a Roma, a Palazzo Barberini, ebbe assegnato il primo premio con un'opera, Inno all'Italia. Oggi quella stessa tela è ospite nella sala delle adunanze dell'amministrazione comunale di Gioiosa Ionica. Ma altri riconoscimenti importanti per quel che riguarda il percorso pittorico e scultorico del nostro li ha avuti a Firenze, a Venezia, a Monte Carlo. I grandi critici del nostro bel paese hanno evidenziato l'arte sublime del nostro, hanno ribadito ancora una volta che, ormai raggiunta la piena maturità, delinea con la sua arte un percorso molto significativo per quello che riguarda la pittura e la scultura del nostro tempo. Qual è il motivo per cui io, dopo aver lavorato tanto per fare dei dipinti originali, ho fatto una serie sulla donna, sulla dea ispiratrice dei miei quadri e della vita, oserei dire, però non ho voluto un flash, ho avuto un flash. Perché non entrare nella pittura dei giganti, dei geni, dei grandi della pittura? Soprattutto ammirando, guardando alcune mostre che si fanno oggi in giro, ti viene la voglia di effettivamente gridare, ma la pittura vera, quella che si fa con i pennelli, sulle tele e con le varie tecniche, ecco la bella pittura. E ho avuto stasera, mi perdonerà sicuramente Caravaggio e mi porterà Raffaello. Però, voglio dire, è spontaneità, è una cosa che mi ho voluto apprendere, non c'è della mania di grandezza dicendo di aver dipinto Caravaggio o Raffaello. L'ho fatto per una mia contentezza, per una contentezza del mio... Poi, non andrò ad impazzire se qualcuno dirà non mi piace, no, no, nel modo più assoluto ognuno è libero di esprimersi così come vuole, anche meglio se sincero, un'espressione sincero. Ma non vado a questo, non va alla ricerca che bisogna per forza fare una critica, no. Io l'ho fatto perché sono stato spinto da una cosa interna di cui mi diceva, ma perché non lo fai? Basta. Nella circostanza sarà presentato il volume, Corrado Armocida, pittore e scultore di Gioio Saionica per Promo Video Cultura. I relatori saranno Pino Livoti e Maria Macri, i lavori saranno coordinati dal giornalista Rai Domenico Logozzo, la manifestazione è voluta dalla consulta delle associazioni nel comune di Gioio Saionica con la collaborazione della Proloco e del comune stesso, con in primissi gli amministratori dell'ente.